Salve ragazze, buonasera, benvenute nel Miceso. Che mai è successo? Non ho fatto nessuna stregoneria. Allora, semplicemente stavo guardando qualche video su YouTube e ieri sera guardavo anche quello di Nicole, Kiss & Makeup. E ho detto, dico, mamma che bellino, ho fatto questo tutorial di questa vecchina, come sarà lei da vecchia? E l'ho fatto, dico, madonna, lo voglio provare a fare anch'io. E così mi sono dilettata a copiare, tra virgolette, lei. Ora, vabbè, lei è professionale, io non sono tanto professionale, ragazze. Aspettate, chiudo. Però, non importa, insomma, si fa pestare insieme per divertirsi un pochino. E allora ho creato questo tutorial così, pestare un pochino insieme, per far duversi, per far duressatine. Però ci sta tutto. Io da vecchia sarò così. Madonnina brutta. Sono brutta da giovane e brutta da vecchia, ragazze. Comunque, vi lascio al tutorial, io vi mando un bacione enorme e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Allora, eccoci qua. Iniziamo subito a infantizzare le rughette. Allora, vi avvicino un pochino di più e inizio a lavorare sulle rughette con un pennellino piatto. Vediamo un po'. Se lo troviamo, un pennellino piatto, sì. E un colorino sul marroncino. Allora, iniziamo a mettere queste della faccia. Così. Spero che si veda qualcosa. Oddio, io non è che ho tante rughette. Ecco, qui. Qua c'è una. Mamma mia. Ci vorrebbe un pennellino ancora più fino, forse. Ecco, forse questo. Vediamo. Questo qua. Ok. Allora, le vado. Allora, le vado. Proprio a volerle. Oddio, mi fa molta impressione. Allora, io farei un pochino di contouring qua. Un po' di occhiaie. Non tanto. Con questa matitina uuuh, ci siamo bianca. Un pochino rossini. Perchè. Perché? Le persone anziane ce l'hanno un po' gli occhi rossi, vero? Faccio un'impressione. Faccio un'impressione, ragazzi. Allora, direi di mettere fondotinta, un po' di cipria, no? Fondotinta no, perché come ci siamo quasi, eh? Un po' di fondotinta, un po' di cipria e abbiamo quasi fatto, eh? Allora, per finire in bellezza, ora dobbiamo sistemare i capelli, perché i capelli non si possono lasciare così. Allora, io pensavo di mettere un po' di... Ecco qua. Direi il trucco ci sta tutto. Io vi saluto, vi mando un bacione, alla prossima, ragazze!